La migliore fonte di energia è il risparmio. Riduciamo insieme il consumo. Bastano poche e buone abitudini per risparmiare e rispettare l'ambiente. Controlla la caltaia e non esagerare con i gradi. Non lasciare la tv e il computer in stand-by. E usa lampadine a basso consumo. Riduciamo insieme il consumo. È un'iniziativa Coingas e sportello informativo Energia.